Ciao a tutti ragazzi! Sono Happy, bentornati su Mega Wow! Oggi ho un annuncio importantissimo da fare. Ho deciso di smettere con i dolci. Basta caramelle! Basta gelato! Da oggi mangerò solo frutta e verdura. Sapete, mi sono abbuffato un sacco durante le feste. Devo mettermi a dieta, devo mangiare sano e fare esercizio. Altrimenti finisco per diventare una lumaca strisciante. Un pallone gonfiato di lardo. Ma Happy, come pensi di fare se non sai niente di diete? Bravi babbei! Non lo farò da solo. Ho deciso di chiedere aiuto a Laura e Alessia, che mi hanno detto che di ricette sane sono esperte. Ci siete? Allora, cosa avete preparato per me? Ciao Happy! Oggi ti faremo vedere una ricetta fantastica, è vero Alessia? Sì! Prepareremo gli smoothie. Vi conosci? No, ma dalla parola sembra una cosa gustosa. Gli smoothie sono dei frullati fatti di frutta e verdura, sono buonissimi. Mentre io farò gli smoothie, Alessia cosa farà? Farò gli smoothie però non beri con il lime. Io farò lo smoothie di sedante, con tre carote, un limone, tre arance. Inizia ad aprire, quale? Quale apri? Questo. Vai! Io ho finito di affettare la soda. La c'è Cristo. Vado con l'arancia. Cosa è il colore? Oh, che carino! Qui si apre e quindi alle... Così, dalla cammincela a tirare. Ah, che si tira, ok. E qui già è che poi si conserva lo slime? Sì. Che carino che è! Qui si conserva lo slime. Invece questo è il contenitore per mettere tutte le cose insieme. Qui dentro ci sono le polverine, le queste, sì? Sì. Quindi adesso cosa si fa? Si prepara tutto? Sì, allora, apriamo il biberon. Ah, l'essenza profumata è questa. Allora, devo riempire per due volte fino a quel bicchiere di acqua. Allora, io metto cinque gocce di essenza per farlo un po' più profumato. Una, cinque. Poi cosa metti? In questo qui il cibo di unicorno? Sì. Metto tutto dentro. Mentre tu shakeri, io vado. Penso che va bene. Tu hai fatto, Ale? Adesso quello cos'è? Pronto? No, si deve lasciare per venti minuti e poi viene slime. Ah, diventa proprio slime? Ok. Allora, noi nel frattempo assaggiamo questo smoothie. Ale, sei pronta per assaggiare questo smoothie? Sì. Ma, ma, fermi tutti. Momento, momento, momento. Ma cos'è quella verdura arancione? Un cibo così buono rovinato così? Almeno usa i pomodori che sono rossi. Ah no, ora io devo mangiare tanta verdura. Allora, mmm, che buono. Vabbè, non ce la faccio fingere. Continuiamo con il video. Allora, via. E che sentiamo? Com'è? No, no. È buono. Io sento un pochino, un po' aspro. Ti piace tutto? Ti piace? Va bene, dai. Allora, tu continui con l'altra abiertura così nel frattempo questo si addensa. E io faccio l'altro smoothie. Vado. Ce la fai, Alessia? Sì. Adesso metto il kiwi. Guarda che carino. Ah, bellissimo. Forza i chiavi. Che gli occhiali. Che bellissimo. Sì. Bella. Questo qui è il contenitore quello per mettere dentro per fare la miscela. Bello. Vai, inizia con la preparazione. Quindi come si fa, Alessia? Come hai fatto prima. Allora, vado a mettere... Inizia. 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 Vai, sì, vai, 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 vai. Pronta, Alessia? Pronta per assaggiare? Buono. Buonissimo. Buonissimo. E adesso, Alessia, pronti per realizzare la magia. Per rendere questi slime magici. Vediamo che colore diventa. Vai. Uno. E io metto qui. Ah, diverso. Azzurro. Alessia, non ce l'este. Ale, qual è quello che ti piace più? Guarda. Bello. Ce l'este. Tutti glitter. Beh, anche questo è bello. Guarda, è bello. E poi tipo slime. Ve lo voglio toccare. E a voi, amici, qual è lo sbuti che mi è piaciuto di più? Quello mio, quindi quello verde? O quello di Alessia? Quello della celeste? Mamma, tu lei dici se mettiamo il slime dentro il contenitore? Sì, sì. Quello è il contenitore del slime. Giusto, Ale? Sì. Si mette lì dentro. Quindi puoi pulire l'attaccato allo zainetto e lo puoi portare in giro. Eh, è un'ottima idea. Bene, amici, ci siamo divertiti davvero tanto. Abbiamo realizzato gli smoothie alla frutta e verdura e gli smoothie con gli slime. Scrivete nei commenti qual è lo smoothie che vi è piaciuto di più. Se lo smoothie ha lo slime, quindi le poopsie surprise. Oppure gli smoothie quelli veri, quelli che ho fatti con frutta e verdura. E cosa diciamo, Alessia? Grazie per averci seguito. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao, amici. Iscrivetevi su questo canale, lasciate like e commentare con hashtag team. Gioca e impara con noi. Ciao, amici. Beh, che dire. Ora mi è venuta una fame da lupi. Quegli smoothie erano proprio invitanti. E che dire dei poopsie? Io ovviamente li avrei riconosciuti subito dall'odore. Però erano bellissimi. E forse anche io dovrei mettermi a vendere la mia cacca colorata. Magari posso fare un sacco di soldi, come con l'acqua della Ferragni. Vabbè, ora non è il momento di pensarci. Iscrivetevi qual è il vostro smoothie preferito nei commenti. Mettetemi like e iscrivetevi al canale. Ah, e seguitemi anche su Instagram. Il link lo lascio in descrizione. Al prossimo video, ciao! Ciao!